Buongiorno a tutti, bentrovati, eccoci qua, eccoci qua con occhiale scaramantico nero-azzurro che ha fatto il suo dovere anche al Camp Nou. Prima di ogni cosa iscrivetevi al canale, mi raccomando, abbiamo superato i 38k, i 38.000, i 15 milioni di visualizzazioni alla faccia di quei quattro piccioni che ancora provano ad attaccarci, ma a quello ci penseranno poi i nostri legali che stanno già lavorando, uno per uno avranno. Quello che meritano. E andiamo avanti così, iscrivetevi al canale e continuiamo a volare. Unico canale che vi ha portato dentro il Camp Nou prima e dopo e che ha cercato di farvi capire anche tutto quello che è successo. Ma credo solo chi c'era può capire l'impresa che è stata fatta. Adesso leggo anche messaggi ancora contro Inzaghi che avrebbe sbagliato i cambi, contro Onana che non sarebbe un portiere da Inter perché ha preso tre gol, contro Aslani perché ha sbagliato quella grandissima occasione. Qui ancora parlano di Inzaghi con il pullman e di un'Inter catenacciara. Non lo so, risulta abbastanza coraggioso come discorso molto anche improbabile, visto come le occasioni avute, la traversa, quella di Aslani, come ha giocato poi la squadra. Anche chi dice che il merito sia di Conte e di come Inzaghi abbia copiato da Conte. Infatti intanto non ci sarebbe nulla di male, siamo stati i primi a dire che bisognava avere anche l'intelligenza di andare a pescare e a recuperare dal passato. Perché no? Che problema c'è? Ma non mi sembra proprio che l'Inter abbia fatto una partita difensiva ieri sera dove ha risposto sempre colpo su colpo, anzi, ha sfruttato poco le occasioni che ha avuto. Tutte le occasioni che ha avuto avrebbe dovuto fare ancora meglio, ancora di più e vincere la partita. Ma come vi dicevo, solo chi c'è stato può capire che impresa sia stata fatta in quella bolgia. Più di 92.000 spettatori, togliendo 6.000 nerazzurri però, una marea umana che all'unisono protestava, cercava di condizionare, di mettere in ginocchio, di fischiare, di essere un vero dodicesimo uomo in campo. Quindi, facciamo anche i complimenti all'arbitro, a Cesari, che ci aveva dato la sua recensione di un arbitro che non si fa condizionare, così è stato arbitraggio top. Anzi, manca il rosso a Dembélé. Adesso che poi ho rivisto il tutto, manca un rosso grande come una casa a Dembélé. Però non era facile. Ogni, praticamente, mezzo pericolo, ogni svenimento in aria era una protesta. Ogni fischio a favore dell'Inter era una protesta. Quindi complimenti anche a Marcini, a che ha tenuto e che ha diretto con Polso una partita difficilissima. E adesso siamo lì, a un passo dall'impresa, a un passo da un traguardo che vale oro per Inzaghi, per i suoi giocatori, per la squadra. Tutti mi hanno detto a fine partita è tornata la vera Inter e adesso deve farlo anche in campionato. Ve l'ho sempre detto, mancava quella scintilla. È una squadra talmente che si fa condizionare da quello che accade all'esterno che aveva bisogno di una scintilla. Proprio come l'anno scorso a Torino, dopo i sette punti in sette gare e quella vittoria stiracchiata allo stadion bianconero con rigore di Ciala. Bastava quella gran partita e bastata contro proprio il Barcellona-San Siro per ritrovarsi a Sassuolo. Reggio Emilia, tra l'altro. Abbiamo avuto una riprova che l'Inter sta tornando, che è tornato il carattere, la fame, la voglia, nonostante le assenze di Brozovic e Lukaku, che sono i due giocatori più forti, più importanti. E quindi adesso bisogna salermi a Tana, Fiorentina e Pilze. Qualcuno ha un po' paura, l'abbiamo ricordato. A proposito, facciamo, fate volare il video pagelle fuori dal Camp Nou che deve diventare quello record. Dobbiamo fare il record di visual con quel video lì, a dimostrazione della forza di un canale che è sempre stato coerente e non sale adesso sul carro, ma che ha sempre detto che la strada comunque era quella giusta, che non si sarebbe andata da nessuna parte con l'esonero. Vi abbiamo portato anche le prove dei gufi che volavano, che si erano presentati a Milano. Paolo Sousa, abbiamo riportato una foto di una cena a Milano. Si era proposto lui, come altri, ma abbiamo sempre detto che sarebbero stati tutti salti nel vuoto, nel buio, e che bisognava continuare con fiducia, come ha detto anche con coesione marotta nel pre-partita. Allora, al mio microfono, bisognava dare fiducia a un progetto che comunque l'anno scorso ha fatto vedere tante cose buone, un gioco che non si era mai visto e due trofei che, insomma, non è che l'Inter ne abbia vinti così tanti nel post-triplete. Vedete, negli ultimi tre anni sono arrivati una finale di Europa League, un secondo posto, due secondi posti, poi uno scudetto, una Supercoppa Italiana, una Coppa Italia, insomma. Rispetto a anni bui in cui si faticava o non si riusciva neanche ad arrivare in Europa League, capite che c'è stato un cambio di marcia e adesso bisogna continuare e adesso bisogna confermare qui dove avevano perso Mourinho, Conte, Spalletti, si è sfiorati la vittoria, sento tante adesso colpevolizzare Aslani, ci sta, ci sta che ti fai prendere anche un po' dalla voglia di emergere, un po' dalla situazione, da quella voglia umana e comunque ha avuto, c'era, era nel posto giusto, peccato che poi abbia fatto la scelta sbagliata e non abbia dato la palla a Mkhitaryan. Però siamo lo stesso a un passo dal sogno, dall'obiettivo da eliminare il Barcellona, il Barcellona che in estate ha acquistato Lewandowski, scusate se è poco, l'abbiamo visto, poi è venuto fuori quando mancavano le energie, ho visto dei voti, 5 ad Evra in Pagella mi sembra veramente poco rispettoso, l'abbiamo detto, tutti meritano la sufficienza, poi c'è chi ha giocato meglio, peggio, però non si può dare 5, come se fosse poi colpa sua. Ha avuto anche quell'occasione dopo la traversa, ma dagli 5 che ha fatto tre quarti di partita, come a San Siro, mi sembra veramente molto poco rispettoso. Adesso cosa succede? Allora, l'Inter abbiamo detto a 7 punti, il Barcellona ne ha 4. Serve battere il Pilsen e al Barcellona serve... Barcellona deve vincere col Bayern e col Pilsen, quindi nella migliore delle ipotesi se riesce a fare tutto questo arriva a 10 punti che l'Inter può raggiungere battendo il Pilsen e arrivando a pari con i Blaugrana vale lo scontro diretto e quindi si va agli ottavi. È chiaro che in tanti adesso dicono ci ricordiamo il Pesve, ci ricordiamo lo Shakhtar, partita in cui l'Inter che doveva... a cui sarebbe bastata una vittoria contro le ultime del girone e invece non c'è riuscita e è arrivata una sonora eliminazione e l'Europa League. Bisogna battere il Vittoria Pilsen. Però quelle partite lì penso fossero anche figlie di un'ansia da prestazione dei loro allenatori Spalletti e Conte e delle difficoltà soprattutto di Conte in Europa. Adesso l'Inter in Europa è un'altra squadra con Inzaghi, l'abbiamo detto, in Europa se la gioca con chiunque, forse se Sanchez non avesse fatto quell'enorme errore, quell'espulsione a Danfield Road, magari l'Inter avrebbe potuto anche eliminare il Liverpool, però ha vinto a Danfield e fidatevi che comunque anche quello che definiscono il trofeo Anfield ha fatto crescere questa squadra perché se no non sarebbe riuscita a fare una partita come quella che abbiamo visto ieri sera. Leggo anche qualche commento di qualcuno che critica Inzaghi per i cambi, invece ha fatto una grande gestione. Intanto ha rivitalizzato la squadra, l'ha rimessa a posto, l'ha rimotivata e nel secondo tempo sono scesi in campo con una voglia, con una intensità, con una fame che poche volte ho visto. L'abbiamo detto anche ieri sera, anche solo dieci giorni fa questa squadra ne avrebbe presi quattro dopo l'1-0, si sarebbe presentata dopo l'intervallo molle e ne avrebbe presi un altro paio, invece ha pareggiato, è andata a condurre, ha sfiorato la vittoria, ha resistito, ha sofferto, ha difeso, è ripartita, non so il Pullman, il Pullman hanno visto la targa quando ha lasciato il Camp Nou a fine partita, con le occasioni che hanno avuto, con Onana che veniva fischiata ogni rinvio, ogni sua perdita di tempo e capite la sua importanza anche nel lancio per Lautaro che poi fa l'assist per Gosens. Chiedere scusa a Gosens, ok che era una palla al bacio, quella di Lautaro Martinez, ma segnare con tutti i pensieri che ti possono venire in testa dopo quello che hai passato nell'ultimo anno, non è facile segnare al Camp Nou un gol decisivo come quello che sarà poi se si riuscirà a battere il Pilz nel gol qualificazione. Onana criticato anche da qualcuno, tre tiri in porta tre gol, ha fatto dei miracoli, delle uscite, delle parate e poi era lo schema. Perdita di tempo, rinvio lungo e si provava a ripartire così, uno schema in più. C'è voluto un po' di transizione perché chiaramente Andanovic è la storia dell'Inter, è il capitano dell'Inter, è il leader dello spogliatoio dell'Inter, quindi io credo che tutto abbia un senso e abbia anche un andamento, no? E adesso bisogna recuperare terreno in campionato, Salernitana, Fiorentina e poi Pizzen per l'impresa per andare a prendersi quello che questa squadra si è conquistata sul campo, Bayern Monaco anche ieri si è dimostrato di un altro pianeta, però ci si può qualificare e andare avanti in Europa, poi vedremo quello che succede. Bisognerà avere intanto la forza e la maturità di battere il Pizzen e poi si spera anche un po' di fortuna nel sorteggio. Critiche di qualcuno veramente assurde, adesso leggiamo i giornali in questa giornata speciale, perché vincere in quella bolgia lì, vincere, pareggiare che è come vincere in quella bolgia lì, non perdere in quella bolgia lì, secondo me è un'impresa incredibile, quindi iscrivetevi al canale che vi ha fatto vivere tutte queste emozioni dal di dentro, come quando vi abbiamo fatto fare l'uscita dallo spogliatorio dell'Inter per arrivare sul campo del Camp Nou e abbiamo fatto sentire tutta, respirare l'atmosfera anche ieri sera, con tutte quelle facce moge dei catalani che andavano a casa con la coda tra le gambe dopo aver fischiato all'inverosimile qualsiasi cosa contro l'Inter e il karma torna sempre, come torna per Xavi, che non si è accontentato dell'1-0 e adesso vedremo se si sarà accontentato del 3-3 e ringrazio Aslani perché poteva essere anche un bel 4-3 e giochi e partite finite. Prime pagine dei giornali di qui che dicono ancora vivi per miracolo, quindi ci sperano ancora, forse hanno fatto male i loro calcoli, problemi che non ci riguardano, adesso facciamo un po' di rassegna stampa per andare a leggere i giornali, le pagelle degli altri, angolo del ciarlatano, dobbiamo dire ancora qualcosa di quattro cabarettisti che adesso provano a salire sul carro dopo averne dette di tutti i colori contro proprietà, dirigenza, allenatore, nzaghi out, nzaghi... ne abbiamo sentite di tutti i colori, gossens, fino a ieri pomeriggio era un calciatore finito che non poteva più giocare a calcio, dobbiamo ancora rispondere. Sarei curioso dal maestro di Rabone di sapere di Tete l'olandese, questo sono curioso di sapere chi sarebbe, Tete il brasiliano dell'Olympique Leone che abbiamo affrontato in amichevole o tete l'olandese del Fulham che non mi pare che abbiamo mai incrociato, però sarà una delle tante Rabone. Bello anche che Zanga abbia postato la sua gioia sui social per l'impresa e soprattutto per un'iniezione di una trentina di milioni che in caso di qualificazione è ancora da conquistare, lo stolliamo sempre, ma che porta sicuramente cose importanti e aspettiamo, adesso visto che sono già dentro, ieri era piena la tribuna di pifferai, come avete visto, e vediamo anche cosa succede sul frontestadio e con questo viaggio negli States di Steven Zhang, qualcuna ha provato a criticare anche la sua non presenza, ma se lavora al futuro dell'Inter non va bene, se è qui e dovrebbe essere là non va bene, se è là non è qui e comunque anche con o senza l'Inter ha dimostrato la sua forza, la sua crescita, che la strada è quella giusta. Un po' adesso di rassegna stampa. Andiamo con sconcerti, che come abbiamo detto anche noi, dimostra di essere... dimostra la partita perfetta che ha fatto l'Inter, come abbiamo sottolineato. Partiamo quindi dal Corriere della Sera questa mattina, Inter cuore gol, impresa sfiorata, non sono d'accordo perché l'impresa comunque l'ha fatta, una gara emozionante, a Barcellona cade di tutto, un pareggio d'oro per i nerazzurri in vista degli ottavi e la squadra di Inzaghi ha giocato la partita perfetta. Il Barcellona offre all'Inter la partita ideale, quella che Inzaghi preferisce, un calcio attento, basato sulla forza dell'avversario e per questo generoso dispazio nella sua metà campo. Un tempo si diceva che era il gioco dell'Inter di Herrera o della Juve di Trapattoni, non c'è mai stata una regola fissa. Il pallone è flessibilità, non numeri eterni. L'Inter stavolta ha giocato la gara perfetta, è partita lentamente, ha resistito, ha subito, si è tenuta la larghezza del contropiede, l'ha regalata alla fine ai suoi campioni. Il Barcellona ha fatto mucchio, non pericolo, forse il piccolo rimpianto. E' essersi fermati presto, quando il Barcellona era in grande difficoltà, era una gara da chiudere prima. Savi è stato un avversario difficile, sopravvalutato, la sua scala non ha niente del passato, del gioco appare scompare, non ha gente da dribbling o da velocità. Il suo 3-3-4 ha annullato subito Pedri, che era il quarto in attacco e sbilanciato la partita. L'Inter è stata formidabile nel controllo delle ripartenze, subito piene di proposte. Barella e Lautaro e Gosens hanno segnato gol dopo stop attivi, quelli che cominciano da soli con un gesto, un'azione finale. Ci vuole classe per cominciarli, ci vuole qualità enorme per portarli a termine. Sono tra i pochi casi in cui la fortuna non c'entra, sono solo grandi gol. L'Inter è piena di questi giocatori e quella che ne ha di più deve giocare secondo convenienza senza cercare bellezza, speculando magari sulla gara, non cercando sempre di dominarla. La bellezza le viene dallo spazio come al Camp Nou. Per questo non è solo una qualificazione quasi guadagnata questa, ma è l'inizio di una nuova idea di un'Inter liberata che può giocare per vincere ancora tante partite. Determinante Dunfri, stavolta anche nel doppio ruolo, un po' troppo esplosivo. Onana, attenti, coperti dal centrocampo, De Vrij e Skriniar, preziosi, Cialanogo e Mkhitaryan. Questa è l'Inter di Inzaghi, cerchiamo di usarla bene più che discuterla. Pagelle, anche queste siamo poco d'accordo. Onana, geniale, 7. Skriniar, 6,5, 5 a De Vrij, non sono d'accordo. 7 bastoni, 6,5 Dunfri, 7 Barella e Cialanoglu, 6,5 Mkhitaryan, 5,5 Di Marco, anche qui. No, non si può dare insufficienza a questi due giocatori. 8 Lautaro va benissimo, 6,5 Dzeko, ok. 6 Darmian, 7 Gosen, 6 Bellanova, 4 Aslani, mi sembra crocifiggere un ragazzo che ha la qualità per diventare campione, 7 Inzaghi, mi sembra fin poco. Andiamo alla Gazzetta dello Sport. Copertina, naturalmente dedicata a questo grandissimo risultato, anche se non è vittoria. Urlo Inter. Pazzesco, 3-3 a Barcellona, ora basta battere il Pilzen. Notte magica in Champions. Barella e Lautaro, gol. Barella e Lautaro, gol e assist. si risveglia Gosen, se Inzaghi si fiora la vittoria, ma può esultare e il ritorno di Lukaku è vicino, come vi avevamo anticipato, domenica. Ma che pullman questo è coraggio! E l'Italia può portare tre squadre agli ottavi di finale. Inter una notte da grande. Pazzesco, 3-3 col Barça. Lautaro parte dalla propria metà campo valido, il 3-2, manca un rosso a Dembélé. Ma quale pullman davanti alla porta? L'Inter ha segnato tre gol al Camp Nou e è andata sotto, ha sorpassato. È stata ripresa, è andata ancora avanti, è stata rimontata all'ultimo respiro. Ha sbagliato il gol del 4-3 che avrebbe meritato. Ha tirato nove volte in porta e ha raccolto otto corner. Riattaccato ogni volta che ha potuto con coraggio e personalità l'idea della vittoria piantata in testa. Ma quale pullman e quali arbitri amici? Sul pullman semmai ci salirà toccando tutto il ferro possibile. Occhiale scarammantico per gli ottavi. Perché basterà battere il vittorio a Pilsen, ancora 0 punti a San Siro per avere la certezza della qualificazione perché il Barcellona al massimo potrebbe poi agganciare i nerazzurri ma sarebbe limitato per la contabilità negli scontri diretti. Ecco, una cosa che a me non piace è giocare prima del Barcellona. La prossima partita l'Inter la giocherà alle 18 mentre il Barcellona alla sera. Ultime due giornate devono essere con la contemporaneità. Notte da ricordare è adesso un super Lautaro Martinez. Anche con le pagelle della Gazzetta non siamo molto d'accordo. Con il 5 a De Vrij anche qui ripetuto. 8 in Zaghi va bene. 8 Lautaro ok. 7 Onana. 6,5 screen. 7 bastoni. 5,5 Dunfries. Non sono d'accordo. 8 Barella. 7 Cialanoglu. 6,5. Mkhitaryan e Di Marco. 7 Dzeko. 6,5 Darmian. 7 Gossens. 5 Aslani. E si cerca di fare qualcosa con Aslani che non mi piace. Lautaro il trascinatore. Crisi alle spalle perché il gol arriva se non lo aspetti. Una rete e un assist per l'argentino Rinato. Che carattere. Le emozioni sono tante. Xavi ora si lecca le ferite. La Champions è crudele. Senza Ottavi per il Barcellona arriveranno altre mazzate nel bilancio. Abbiamo dato l'anima ma troppi errori in difesa e direi. Onana la gioia del portiere. Ottimo punto. Andanovic mi sta aiutando. E poi in Zaghi riparte. In Spagna ricorderanno a lungo questa Inter. Ora può tornare Lukaku. Il tecnico esalta la squadra. Hanno lottato insieme. Due match di campionato. Poi pensiamo al Pilzen. Un articolo anche dedicato un focus a Barella. Ecco il vero Barella. E' tornato lui. L'avevamo detto che sarebbe stato fondamentale. Molto più maturo rispetto a quello del Bernabeu che si fa espellere. Niccolò di nuovo protagonista. Speriamo di essere usciti dal periodo più buio. E andiamo avanti anche in campionato. Goseng si sveglia. Un gol di valore per ripartire in un momento difficile alla faccia dei cialtroni. Bayern sul velluto. Pilzen spazzato via. Tedeschi agli ottavi. Guardiamo anche la prima pagina del Corriere dello Sport. che va bene e complimenti al Napoli a cui bastava anche un pareggio. Però non mettere neanche una foto dell'Inter e un sottotitolo, un occhiellino minimo. Mi sembra un po' poco rispettoso. Va bene che il bacino d'utenza è il sud e Napoli. Napoli unico, complimenti al Napoli che si guadagna, che batte anche l'Ajax e vola a punteggio pieno agli ottavi. Però l'Inter forse qualcosina in più la meritava. Fa tremare il Barça. Ora bastano tre punti con il Victoria. Prime pagine dedicate a Napoli. Dall'ottava si parla invece di Inter. Sì, Simone è la tua Inter. Barella vanifica il gol di Dembélé. Magie di Lautaro. Gossens graffia. Maleva pareggia due volte. L'Inter è di nuovo una squadra. Il commento del Corriere dello Sport va bene anche così. Anzi, va benissimo. Poteva vincere il Camp Nou. A parigiato segnando tre gol. Sbagliandone molti altri. Giocando come fa una squadra italiana quando deve difendere e ripartire. Quando c'è bisogno di organizzarsi e compattarsi. Quanto meno Inzaghi ha vinto il lungo duello con Xavi. E adesso è un passo. Pagelle del Corriere dello Sport. Vediamo se ci piacciono un po' di più. Inzaghi sette e mezzo. Nana sette. Skriniar sei e mezzo. De Vrij sei e mezzo. E mi sembra che qua ci siamo. Bastoni sette e mezzo. Grande partita. Anche lui ritrovato. Acerbi senza voto. Dunfri sette. Barella sette e mezzo. Aslani cinque e mezzo. Giusto. Dagli cinque e mezzo. Quattro. Mi sembra veramente crocifiggere un ragazzo. Cialanoglu sette e mezzo. Gosen sette. Mkhitaryan cinque e mezzo. Ecco. L'unico su cui non siamo d'accordo. Perché ha salvato un gol sulla linea. Ha fatto una gran partita anche lui. Di difesa e ripartenza. Di Marco sei e mezzo. Come Darmian. Sette Dzeko. Sei e mezzo. Bellanova. Piano piano arriva anche lui. Tranquilli. E otto Lautaro Martinez. Direi. Inzaghi grandissimi. Noi vicini all'impresa. Il Barca è avversario di valore. Abbiamo avuto coraggio. Creato. Sofferto. Ora adesso la grande occasione. Parla anche Xavi. Ansia da eliminazione. Champions crudele. Magari si dovevano fare anche delle dichiarazioni differenti. Presidenti alla vigilia. E non cercare di condizionare anche l'arbitraggio. Dei vostri messaggi ne parliamo poi più tardi. Stasera in live. Vediamo se riusciamo ad arrivare a un'ora accettabile. Ringrazio tutti voi per aver superato i 38k. Traguardo grandissimo. Grandioso. I 15 milioni di visualizzazioni. 15 milioni di visualizzazioni. Salutiamo cialtroni e piccioni. E si va così con gli occhiali escaramantici sempre accesi anche di giorno. Godetevi questa giornata. Ve lo meritate. Si vola. Mi raccomando. Video pagelle da record. Cliccatelo e fatelo diventare il video più visto del canale. Perché è questo il nostro canale. Buona giornata. Buona giornata.